Della ragazza che sta facendo sognare gli italiani a WIKITALY La rossa più famosa dello spettacolo, signore e signori, la pantera di Goro, MILVA! No, 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 no Che c'era anche settimana scorsa, giovedì, e che è l'antilope del tacco 12 da Catania e la Trinacria, Miriam Leone! Buonasera! Di Sugar, come si dice? Come nome dell'altro blog, tu sei di origini croate, poi ti sei spostata in America, sei cresciuta in America E alla fine sei arrivata, in Italia è stata... Enrico, hai sentito? Eh? Ho sentito No, non seguivo, non seguivo Beh, fatto bene Io ho finito da... Non se ne può più di un certo moralismo da bar sport, da social network, che poi oramai è la stessa cosa Basta con questa mentalità da Uma Rels, secondo cui viviamo tempi cupi della Francia, si nascondono le fisionomiche riservate da molti giornali, siti di giornali... Cioè, alla fine la... Anzi, di una fotografia scattata in un momento... Un mistero, come diceva Battiaco E... Sì Stai, stai, stai pure con noi, ascoltiamo insieme Enrico, che ha qualcosa da dirci Voglio crudere dopo tanto parlare... Gli ortaggi più coltivati quali sono? Cosa, gli spinaci, posso fare tutto un elenco Si risparmia con questo tipo di attività? Si risparmia in che senso? Per mai...